buongiorno da dubai oggi parliamo di piscine ma non piscine normali bensì le infinity pool o piscine a spioro a dubai ce ne sono numerose di belle sono ormai delle attrazioni nella città e io le adoro naturalmente e mi piace andare in questo tipo di piscine allora in particolar modo oggi parliamo della piscina più alta al mondo infatti il guinness di primati recentemente ha stabilito che la piscina più alta al mondo si trova nel nuovo address gbr ora ve lo faccio vedere secondo il guinness dei primati la piscina che si trova ad un'altezza di circa 294 metri è l'infinity pool più alta al mondo allora la piscina è bellissima come avete visto dai dai video si gode una vista mozzafiato delle blue water island e anche della palma c'è un piccolo problema non è la piscina più alta al mondo e non è neppure la piscina più alta di dubai seguitemi video Ci troviamo al 75esimo piano dell'SLS Hotel & Residence a Business Bay. Qui siamo esattamente a 325 metri di altezza. E quindi come la mettiamo? Siamo 30 metri più alti della piscina dell'Adress. Cosa vuol dire che quelli del Guinness dei primati non sanno contare? No, non è così. Semplicemente loro avevano già fatto un contratto e quindi a fronte di questo contratto e di un pagamento ricevuto dovevano pubblicare questa notizia. Quindi la morale della favola è sempre la stessa. Chi paga ha sempre ragione. Guardate il Bush Khalifa, spettacolo. Alla sera vi dico la verità che è ancora più spettacolare perché ci sono i giochi di luce. Allora naturalmente vi ricordo di contattarmi dal mio sito internet che è www.dubaiasetstrategy.com Un saluto da Dubai e dalla piscina più alta al mondo. Allora naturalmente vi ricordo. Allora naturalmente vi ricordo. Grazie.